eccomi qua ragazzi per chi volesse sostenere il canale vi ricordo che lo può fare solo gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina bisogna vedere con quali soldi però parliamo di giocatori accostati all'inter tra l'altro danfris ha chiesto scusa se lo volete arrestare per eccesso di festeggiamenti arrestatelo pure non lo so cosa deve fare questo ragazzo si scordano tutti di quello che hanno detto acciolanoglu ibrahimo vince ambrosini quello mettetelo nel sedere lo vogliamo arrestare danfris arrestiamolo arrestatelo dategli dategli gli arresti domiciliari perché ora per l'amor di dio ma non la facciamo lunga non facciamola lunga cioè o si tiene una linea per tutti oppure c'è non capisco perché quando c'è di mezzo l'inter io sono il primo a dire che i cinesi non lo so dov'è e chi è sparito ma quando c'è di mezzo l'inter ragazzi cambiano le norme cambiano le leggi allora bento bento è un grandissimo portiere un portiere reattivo ottimo nell'andare a terra grandissima tecnica di parata bravo nelle uscite brava basse bravissimo nelle uscite alte anche perché più di un metro e 90 fisicamente è totalmente diverso da sommer e poi anche lui come lo svizzero ha dei piedi fantastici ha dei piedi ottimi quindi se l'inter riesce a prenderlo a quel prezzo secondo me fa un affare davvero assomiglia molto alla chiappa sogni a giulio cesare assomiglia molto molto a giulio cesare poi dopo c'è il dilemma zigzag e goodwood sono tutti e due tutti e due non te le puoi permettere neanche perché anche con l'eventuale nuova proprietà devi comunque cominciare a fare il trading player trading oggi l'inter non lo fa perché player trading sappiamo tutti benissimo che vuol dire spendere cento e investire cento quindi l'inter non ha mai fatto player trading ma anche una nuova proprietà dovrai farlo vista la situazione i paletti che comunque deve andare a rispettare parliamoci chiaro ragazzi zigzea lo sapete è un mio pupillo come le ho detto ram come lo erano tanti altri giocatori ma in una situazione del genere devi fare una scelta secondo me prenderlo ora è impossibile perché ha un costo di 50 60 milioni dovevi prendere a gennaio a 20 25 purtroppo non avevi la forza per farlo io questo lo capisco benissimo è il motivo per cui secondo me è giusto orientarsi su gutmundson che eh proviene da una società dove accettano eh in maniera molto più diciamo eh sono molto più aperte alle contropartite infatti già si parla di contropartite e poi il gutmundson nonostante l'ottimo campionato è un giocatore che secondo me ancora non ha raggiunto proprio l'apice capito mentre zigzea un bel pezzo avanti gutmundson secondo me ancora ha tantissimi immagini di riuscita e ha fatto vedere solo una parte di quello che sa fare perché anche questo un altro calciatore che questo nome chi segue questo canale parlo di gutmundson l'ha sentito l'anno scorso eh è un giocatore veramente interessante io conoscevo grazie a un mio amico e a me piace tantissimo cioè a me se a oggi mi dici uno tra zigzea e gutmundson io ti dico gutmundson perché ti dico gutmundson perché eh come dicevo prima innanzitutto non ha ancora toccato il suo apice può giocare da seconda punta potrebbe giocare tranquillamente con turam sfruttando gli spazi di turam fiondandocisi dentro oppure addirittura potrebbe sfruttare la corsa di turam nel servirlo nel fornirgli gli assist perché questo ragazzi cioè questo salta l'uomo con una facilità incredibile salta l'uomo assist e gol giocatore fantastico gutmundson islandese è un giocatore fantastico è imprevedibile salta l'uomo cioè capito assist e calcio di rigoro e punizioni è fortissimo gutmundson è un numero dieci mascherato ma è un numero dieci moderno e ripeto rispetto a zigzea lui può fare tutti i ruoli dell'attacco davanti ed è per quello che a me piace tanto soprattutto per un allenatore come in zaghi e avere un giocatore come gutmundson secondo me potrebbe essere una manna dal cielo mentre zigzea lo puoi far giocare in un ruolo massimo due eh l'islandese ti gioca in tre quattro ruoli davanti e potrebbe sfruttare sia la forza diciamo ehm la tecnica di lautaro potrebbe giocare sia un lautaro tranquillamente che con turam questo anche zigzea ma anche lui lo può fare tranquillamente perché poi alla fine a noi è vero ci mancano i gol sporchi però in zaghi anche dimostrato eh di saper superire la mancanza dei gol perché nonostante l'inter ne sbagli tantissimi quest'anno quest'anno siamo migliorati ne abbiamo sbagliati meno ma abbiamo continuato a sbagliarne tanti ma alla fine cioè l'attacco dell'inter è quello più prolifico di tutti quindi cosa stai ragionando e quindi niente lui potrebbe sfruttare le scorribande di turam e potrebbe stare lì accanto all'otaro e girare intorno all'otaro per quello io voto gutmundson infatti da quello che si legge sembra che l'inter sia molto più amante per l'islandese che per l'altro ragazzo che per l'olandese a me piace tantissimo e sono quei giocatori che accendono lo stadio sono quei giocatori che ti fanno le giocate spettacolari ti dà tantissima tecnica poi volendo spaccare il capello in quattro cosa manca all'inter manca anche gente che sappia saltare l'uomo perché a parte turam e qualche non altro all'inter ce n'è pochissima di gente che salta l'uomo lui c'ha cioè per tripling riusciti è il primo attaccante in italia gutmundson sono quei giocatori io ho avuto la fortuna di giocare con ragazzi che avevano quella dote innata io ce l'avevo ma non come come certe persone hanno giocato con me senza fare nomi cioè quando gli arriva la palla hanno praticamente loro mentalmente se hanno se hanno un difensore o un centrompista gli viene incontro prima gli arrivi la palla loro nella loro testa hanno già saltato l'uomo e pensano alla giocata dopo gutmundson è uno di questi e a me piace tantissimo oltre lì però poi serve un centrale forte a c'è ben su quegli anni lo sappiamo però ecco io ti dico che sia bento che gutmundson sarebbero due colpi eccezionali con quali soldi non lo so ovviamente speriamo tutti nell'entrata di una nuova proprietà perché così abbiamo capito tutti perché ora festeggiamo divertiamoci però abbiamo capito tutti e comunque a livello economico non possiamo questa gestione non può andare avanti però ragazzi bento tanta roba gutmundson tanta roba zig zag tantissima roba tutti e tre secondo me non li puoi prendere ma io sarei felicissimo con bento e gutmundson ciao inter ci becchiamo più tardi ciao 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 ciao